Mi ha fatto molto piacere essere qui con professori come Margherita Hacke, Sadelli, che sono ben noti, che non avevo mai conosciuto, ma soprattutto essere qui con tanti studenti. Io onestamente, come altre volte mi è successo nella vita, ero un po' scettico. Pensavo che parlare di questi temi tra noi, tra professori, diciamo, di giornalisti, non avrebbe interessato. Invece, laura è piena di studenti che sono stati qui imperterti, forse addormentati, perché per quattro ore non si sono alzati. Io ho cercato di dare un piccolo contenuto come matematico, tra l'altro, e come divulgatore dall'altra. Io da molti anni sono dedicato anche a questa attività, diciamo, oltre a quella di matematico. La matematica è un campo di attività, di scientifico, molto sui generi. È un po' a metà tra l'umanesimo e la scienza, e quindi spero che almeno qualcuno delle mie parole sia stato inutile.